Fai a foto di tutti i piatti, quindi ragazzi seguite Vito per i piatti e qua roba di alto livello, altissimi. Poveri cazzo! Attenzione please, mi sono permesso di scegliere P2 del 99, la grande Davide, P2 99 ragazzi, spettacolo. Ora lasco, reggina piccolissima, adesso assaggio e poi c'è un bicchiere anche per te ovviamente Davide. Perfetto. Attenzione please, scusate, sto masticando ma ha ragione Davide, vedete, tutti questi P2 qua 99, 98, la maggior parte sono tutti di tappo, tutti. E comunque adesso ci riproviamo col P2 98, guardiamo d'accordo insieme Davide, io non voglio fare il fenomeno, però avevo shampoo da 30 anni, qualcosina so. Questo come ti sembra, questo è buono come tappo. Vai assaggiamo, anche te Davide, così io verifico sempre giustamente Davide, cosa ti ho detto lo assaggio, assaggia lo tè, per me non va bene, infatti Davide mi ha confermato. Ora P2 98, vai. Attenzione please ragazzi, P2 98, questo qua è perfetto, 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 come di prima io l'ho assaggiato, per me è tappo, provo anche tu, giustamente l'hanno provato in due, Filippo c'è, insomma, non è da ieri che bevo lo champagne, tutto rispetto. Salute ragazzi, P2 98, per partire, la serata è lunga. Attenzione please, adesso faccio la storia per...